Dopo la tempesta torna sempre il sereno. Il Cosenza Calcio, dopo due anni, ritorna nei professionisti passando dal ripescaggio. Un ripescaggio che per la stramaggioranza dei tifosi ha il sapore di un risarcimento. L'anno scorso infatti la nuova Cosenza vinse la finale playoff ad Arezzo, ma rimase in Serie D. Oggi tutto è il sapore di una rivincita. Ieri l'annuncio ufficiale, il Cosenza Calcio giocherà la nuova stagione in Lega Pro 2. Ben tornato Cosenza tra i professionisti, categoria sicuramente più consona al blasone rosso-blu. Notizia di ieri, è uscito il calendario della Coppa Italia che vedrà i lupi scendere in campo domenica 18 agosto alle 20.30 al San Vito contro l'Ischia. Grande euforia ed entusiasmo tra i tifosi che non vedono l'ora di calcare le gradinate delle curve e iniziare questa nuova avventura che ha un sapore dolce. Presidente e amministratore delegato si dicono soddisfatti del lavoro fatto sinora e soprattutto del grande sacrificio che hanno affrontato per realizzare il sogno chiamato Lega Pro. Da lunedì un'intera città è in festa e a modo suo anche la squadra ha festeggiato la grande notizia. Ricordiamo che Cappellacci e compagni sono ancora in ritiro a Pescina, ma il team manager Kevin Marulla, aiutato dal bomber Manolo Mosciaro, hanno organizzato una festa per tutti. Vi mostriamo giusto qualche foto apparsa sui social network per condividere insieme questa passione chiamata Cosenza.